e buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi signori iniziamo una nuovissima collezione il primo anno che prendo le tops le match attacks prima ho sempre preso adrenalin però uno youtuber ha detto che praticamente in quest'anno la tops sta surclassando completamente la panini ok ragazzi andiamo a vedere mi aspetta una qualità altissima poi all'inizio sono rimasto triggerato perché pensavo che ti dessero la carta di messia autografata invece no ti danno una carta limite d'oro strana ok signori allora c'è sta cosa ok la checklist poi abbiamo questo vabbè l'altra checklist ok e poi ma io mi chiedo in questa in questo album come cavolo dai ma non ci sono i numeri mamma mia non ci sono i numeri e mo in questo album come cavolo ci fanno a stare 900 figurine scusatemi e mi devo comprare 8 album qui invece questa qui ok è la guida ok poi mi ci da tre pacchetti questo qua da sei carte questo qui da 12 carte e questo da 12 carte raga ma sono stato scammato c'è chiaramente scritto più una carta limite di 10 oro ma io sinceramente non la vedo ma dai ma è già iniziato a fare scherzi mi hanno scammato vabbè non ci credo non ci credo magari è qua dentro vabbè io inizierei allora io inizierei da quelli con meno carte quindi cosa qua con sei vediamo ok ragazzi ho trovato una sistemazione per aprire il pacchetto non so se lo vedete penso di sinta è entrato leo con la musica ok si si va bene leo togli la musica però ok allora ragazzi giriamo ok questo qui cos'è exclusive non lo so ciao da parte mia da leo scandi scog the tool lock in excluse 100 milioni chi da soldi nel gioco eccole le carte limited edition cante e greenwood mamma mia poi carta infortunio carta ma che scam signori mi ha dato due carte sto pacchetto ma stati zitto va sette carte questo pacchetto giriamo bello giapponese coreano ok allora ragazzi abbiamo emado abbiamo fred madonna che 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 carta scrausa 72 poi sergio busquets 77 luis zubeldi a 71 ragazzi vedo una bella caleo stai zitto a cugna o bastoni e poi ragazzi ho visto qualcosa di veramente intrigante top saver edward mindy 75 ma tutti quanti scarsi ferran torres limite le dici ma come 71 ma dai ma chi l'ha creata queste carte il creatore direi la panini la panini perché la panini no poi c'è questo qua è bello pesante 12 carte qua dentro signori leo stai zitto apriamo atletico madrid no correa 76 sciule 69 ma vabbè io sono un basito ok al caser un marchignos buono vabbè lui è 71 ok ragazzi ho trovato man of the match grisman manee bello sto pacchetto è per creare la mia squadra la porta mamma mia sto pacchetto è fortissimo 100 club l'ho trovato rubendias 100 club e andiamo e poi questa carta fighissima qua meno di match tripier l'ho trovato poi andiamo ad aprire velocemente gol machine seferovic e top defender bambi sacca mamma mia ragazzi l'ho trovata 100 club ok allora ragazzi speriamo di trovare una carta l'ho trovata sì l'ha ammazzata uno scudetto della juve deron corona alzenberg che pacchetto scrauso carvajal otamendi otamendi tuonzebe lo scudetto del celsi lo scudetto dell'atletico madrid vinicius man of the match allrounder non so cosa sia bellingham e gol machine karim bezeman pacchetto un po scrauso però comunque ragazzi ogni tanto ogni tanto serve che fai te ne privi no che non te ne privi ah non anticipato comunque ragazzi io ve le consiglio anche se sono un sacco da collezionare però comunque questo qui costa quante perché le adrenalin costeranno 2 euro ma ti daranno 6 figurine queste due euro 12 c'è ragazzi allora gabriel jesus 83 ci sta un megawyer 84 scudetto del tottenham eric garcia parecco ad an noyer buono zapata ok allora ragazzi megawyer e mi abbi man of the match una domanda il tuo telefono è scrauso fa schifo perché fai video così lunghi come ricarichi e da dove non è con lungo sto video come no poi li carico dal telefono quindi stati zitto doppio cos'è allrounder e difensive ok allora ragazzi dai l'ultimo pacchetto deve essere quello buono lo agitiamo per bene facciamo facciamo fare i giri della morte apriamo in maniera chirurgica sto pacchetto l'apertura chirurgica ecco non è uscita vabbè ok allora ragazzi giriamo ovviamente c'è sempre sta cosa qua oxlade chamberlain buono non è vero a che alaba dortmund lopez suso veretù ermoso che albiol next gen allora io direi prima quello dell'atletico ciao felix firmato ciao felix firmato e poi faranno difensive joe felix firmato ragazzi baci ma stiamo scherziamo ragazzi ho felix firmato guardate che bello c'è il joe felix firmato signori ma ci rendiamo ciao ma dov'è il numero ok 445 229 ok allora ragazzi io direi che per questo video tutto anzi no adesso prima faccio la squadra anzi no dai no poi magari farò un altro video per la squadra bella ragazzi